La bambina lupo. C'era una volta in un bosco cupo una bambina che invece di essere mangiata riuscì a mangiarsi un lupo. La piccola si chiamava bambina e viveva in compagnia di una gallina. Vivevano in cima ad un albero grande che in autunno si copriva di ghiande. Con il legno avevano costruito una casa carina con un tavolo, una seggiola e un letto in cucina. A bambina piaceva molto abitare in alto, tra le nuvole e ancora più su, mentre gallina avrebbe preferito stare più giù. In cima all'albero ogni volta le girava la testa e solo quando scendeva per lei era una gran festa. Bambina e gallina insieme si divertivano ed erano contente. Solo in inverno pativano la fame perché da mangiare non trovavano più niente. La storia di mangiarsi i lupi cominciò proprio per questo e un freddo giorno bambina si alzò presto presto. Disse a gallina vado a cercare qualcosa da mangiare, tu non aprire a nessuno se i guai vuoi evitare. Bambina camminò e camminò per quattro giorni interi e alla fine per la fame avrebbe mangiato anche i sassi, bianchi, rossi e neri. Fu a questo punto che si imbatté in un lupo nero che sazio e soddisfatto avanzava lungo il sentiero. Bambina cominciò a mangiarselo con gli occhi, poi prese un bastone e gli diede una mazzata proprio con i fiocchi. Tramortito se lo portò a casa, lo tagliò e lo preparò in cucina, poi se lo mangiò tutto senza dar niente alla sua amica gallina. Per fortuna un lupo quando è morto non può più pensare altrimenti di essere nella pancia di una bambina si doveva vergognare. Per un po' di tempo bambina ebbe la pancia piena e tornò ad essere felice, allegra e serena. Ma dopo molti giorni la fame ricominciò e di nuovo nel bosco bambina si addentrò. Un altro lupo ignaro trovò sul suo cammino e in quattro e quattro otto lo trasformò nel suo spuntino. Così in un baleno ovunque si sparse la notizia che una bambina cattiva ai lupi faceva venire la strizza e quando un lupetto faceva storia per dormire la mamma lo minacciava. Guarda che bambina può venire e se guardava troppo la televisione diceva se non smetti ti mangia in un boccone. I lupi ormai avevano molta paura della bambina e appena la vedevano scappavano a nascondersi in cantina. La bambina cominciava ad essere stufa del suo pranzo, sempre quello, prese la gallina e se ne andò a passeggiare vicino un ruscello. Ma nell'acqua vide un'ombra minacciosa e nera e spaventata, divenne bianca come la cera. Possibile che nel ruscello ci fosse un lupo con la bocca spalancata? Si girò verso gallina che per lo spavento era già scappata. Ma il lupo dov'era? Sempre più vicino, vicinissimo. Sì, il lupo era bambina, avete capito benissimo. E dunque bimbi cari dei lupi non abbiate più paura, dentro di loro batte un cuore di bambina, pronta ad ogni avventura.